luoghi del cuore da preservare sono i siti votati dai cittadini nel 2018 in occasione della nona edizione del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal fai fondo ambiente italiano 500 mila euro il denaro messo a disposizione per salvare dei veri e propri gioielli naturalistici dall'abbandono sul podio il monte pisano in provincia di pisa il fiume oreto a palermo e lo stabilimento termale di porretta terme in provincia di bologna nel lazio riceverà il contributo del fai il calidarium di acque tauri a civita vecchia classificatosi ottantesimo nella classifica nazionale che si tratti di un luogo straordinario lo dicono le immagini del sito la vasca ellittica delle terme è citata già nella naturalisistoria di plino il vecchio ma solo con la pulitura del 2015 sono emersi il fondo del calidarium e un sistema di distribuzione idrica fino ad allora sconosciuti l'intervento del valore di 8 mila euro è stato progettato dal comitato società storica civita vecchiese e mira a realizzare un percorso fruibile dalla collettività al momento infatti il sito è accessibile soltanto agli archeologi ma l'obiettivo ultimo di chiama il territorio e di dare impulso al restauro del sito e se è vero che tanti luoghi sono stati esclusi dall'ultimo censimento per riprovarci basta aspettare la primavera del 2020 quando il decimo censimento del fai sarà lanciato grazie a tutti Grazie a tutti.